Se qualcuno ti contatta dicendoti che un tuo familiare è nei guai e ti chiede soldi per risolvere il problema, attento, è quasi di certo un truffatore, ti dirà di essere un avvocato o un agente in borghese, non avere timore, tu chiama subito i carabinieri, quelli veri, la tua sicurezza è il nostro mestiere.